Si chiama Assunzione e Formazione, l'ultima misura di Garanzia Giovani, il programma regionale di occupazione e formazione per i giovani MIT dai 18 ai 29 anni. L'assessore alle politiche del lavoro e formative Pietro Quaresimale, la dirigente responsabile Renata Durante, nel presentarla nel corso di una conferenza stampa hanno anche fatto il punto sulle misure di Garanzia Giovani attualmente operative in regione, formazioni in azienda per i neoassunti. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio del 2022. Una misura sicuramente importante destinata ai giovani per cercare di perfezionare e affinare la loro preparazione affinché possono entrare nel mondo del lavoro. Ha una dubbio importanza questa misura che è una dote finanziaria iniziale di un milione e due ma che sicuramente aumenteremo, dicevo, importante sia per i giovani ma anche e soprattutto per i datori di lavoro perché spesso hanno la possibilità di assumere ma mancano dei profili con delle particolari caratteristiche. Quindi noi con la formazione, con questo percorso che facciamo avviare permettiamo appunto a tanti giovani di perfezionarsi. Sicuramente c'è molta richiesta, i giovani hanno la volontà di migliorare la loro capacità e sicuramente noi cercheremo di trovare ogni soluzione affinché possano accedere al lavoro. In futuro ci saranno altre misure che rientrano anche nell'FSE che vanno a incentivare assunzioni anche agli over 50, alle donne e alle persone disabili. Momenti molto particolari ma noi dobbiamo essere pronti a superare questa pandemia e fare parte dell'economia che si rende in difficoltà.